Icardi all'Inter, la voce su un possibile ritorno in nero azzurro dell'attaccante argentino, torna ad infiammare le discussioni tra i tifosi. Questa volta ad accendere la miccia della discussione è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, una nota rivista di gossip, si dice che si avvicina a Guandanara e quindi sarebbe ben informato su queste questioni. E proprio nelle scorse ore avrebbe di fatto annunciato che a Milano si vocifera appunto di un possibile ritorno di Icardi all'Inter, spinto anche dalla forte volontà dell'attaccante stesso. Icardi che nel frattempo sui propri canali social ha pubblicato anche un'immagine corredata da un messaggio in cui parla di nuove opportunità per il 2024 e unendo un pochino i pezzi di questo puzzle ha fatto scatenare tante fantasie e tante discussioni. Permettetemi anche una piccola cattiveria che a lanciare la notizia su Icardi sia a Novella 2000, una rivista di gossip, la dice lunga sulla piega che ha preso la carriera di questo calciatore. Ma a parte questo, torniamo serie, torniamo alle discussioni. È un'operazione per me estremamente complicata, praticamente impossibile, soprattutto a gennaio per vari motivi che adesso andiamo ad analizzare insieme. Vorrei comunque farci quattro chiacchiere sopra insieme a voi perché ho visto tante discussioni, abbiamo parlato molto anche nel club di Passione Inter e mi sembra giusto analizzare un po' il tutto e alla fine poi di questo contenuto vi metterò anche un paio di aggiornamenti di mercato che si collegano a questo tema e sono aggiornamenti importanti da tenere sotto osservazione. Prima di tutto però ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici Passione Interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale con il clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri aggiornamenti quotidiani e le dirette ogni giorno alle 19 e 30. Oggi in questo contenuto di approfondimento parliamo di Mauro Icardi e di un suo possibile ritorno all'Inter per questo mercato di gennaio, lo ripeto, è molto difficile, soprattutto sarebbe legato ad un eventuale addio di Alexis Sanchez di cui andrebbe a prendere il posto e anche qui ci sono delle complicazioni che tra poco vediamo. Ne parliamo con il nostro format perché vi è piaciuto molto quello dei pro e dei contro, dei punti a favore, quelli a sfavore di un'eventuale operazione quindi me lo avete richiesto, lo riproponiamo e ne parliamo insieme. Questa volta in edizione Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993, è stato anche capitano dell'Inter e sembra una vita fa ormai con numeri da top 10 dei marcatori all time della storia nerazzurra. Quindi un attaccante che il vizio del gol ce l'ha, lo ha confermato al PSG ma soprattutto lo sta riconfermando al Galatasaray dove tra gol e assist ha numeri superiori di fatto ad una contribuzione a partita. Ogni 90 minuti comunque con i card in campo si parte 1-0. Questo dicono i numeri dell'argentino al Galatasaray in Turchia e quindi tra i pro e i punti a favore non possiamo che mettere la sua vena realizzativa. È un golador, è un giocatore con il fiuto del gol e questo lo sta di nuovo confermando. Cosa che all'Inter un pochino manca, anche quel cinismo diciamo in zona gol e quindi è sicuramente un suo punto a favore. Così come quello del profilo diverso rispetto agli altri attaccanti a disposizione sicuramente Icardi va ad aggiungere delle caratteristiche differenti che al momento mancano nel nostro reparto. Quindi sarebbe un elemento di discontinuità rispetto agli altri che ti può garantire delle alternative interessanti. L'intelligenza calcistica so che qui farò discutere però secondo me è un giocatore che sa di calcio pur non essendo un grande appassionato di calcio. Mi sembra di ricordare che raccontasse spesso che non guarda tante partite ma è un giocatore che nei movimenti, nelle letture e soprattutto nel farsi trovare pronto in area di rigore è un giocatore intelligente calcisticamente nel sapersi smarcare. Quindi è un suo punto a favore sicuramente. Per tutte queste caratteristiche è un attaccante da Serie A che in Serie A ha dimostrato di far bene. Io credo che giocherebbe titolare in molte delle squadre anche in lotta per la zona Champions. Quindi per l'Inter arrivare a fare il terzo sarebbe qualcosa di importante se un giocatore che può fare il titolare in squadre in lotta Champions prenderlo come terzo non è sicuramente male. E avrebbe anche per questo un impatto immediato già per il fatto di conoscere diciamo anche l'ambiente ma soprattutto di conoscere il campionato, le caratteristiche. È anche un giocatore che secondo me non ha bisogno di una condizione fisica al 200 per cento per poter mettere in mostra quelle che sono le sue principali caratteristiche. Quindi il periodo di ambientamento a stagione in corso sarebbe sicuramente ridotto rispetto ad altri profili che hanno altre caratteristiche, almeno a mio avviso. Un altro punto a favore è il fatto che di fatto non è nel giro della nazionale, non viene convocato dall'Argentina. Quindi sarebbe un giocatore che non ha questi viaggi transoceanici, non perderà energie preziosi in giro con le nazionali durante la stagione. Quindi anche questo lo sappiamo con altri giocatori della nostra rosa è stato spesso un fattore invece negativo. Il precedente Immobile, lo abbiamo aggiunto, è un punto a suo favore nel senso che Inzaki è riuscito a valorizzare Immobile riportandolo a vedere dei numeri veramente glamorosi da record a livello internazionale. Io credo che Icardi con Immobile possono avere qualcosa di simile anche se sono calciatori diversi ma soprattutto credo che Icardi in senso assoluto sia un giocatore superiore come valore tecnico se si esprime al cento per cento. E quindi se Inzaki ha saputo far rendere al meglio Immobile anche con Icardi potrebbe riuscire a trovare l'alchimia giusta. Chiudo poi con l'ambiente rinnovato e questo poi ci collegherà anche ai contro perché è innegabile che uno dei grandi motivi che ha portato all'addio di Icardi all'Inter è stato chiaramente anche quello della rottura con lo spogliatoio, con tutto il mondo inter e di quell'Inter lì comunque del suo addio sono rimasti di fatto De Vrij e Lautaro in rosa. Forse c'era anche Di Gennaro mi sa nel giro della squadra ma praticamente solo De Vrij e Lautaro Martinez sono rimasti di quel gruppo lì, non ci sono più i Perisic, i Brozovic, i Andanovic con cui c'erano stati vari problemi. Quindi il gruppo si è profondamente rinnovato, c'è Marotta ovviamente, Marotta che è stato lui chiaramente a cederlo e a risolvere questo problema, però su Marotta tra le altre cose molti mi stavano ricordando anche nel club di Passione Inter come lo scorso ottobre ad un evento firmato Gazzetta dello Sport quando gli venne chiesto chi è stato peggio per comportamento tra Lukaku e Icardi, lui alla fine risponde che per come è andata a finire è stato meglio Icardi di Lukaku. Quindi questo è un po' da tenere in considerazione, anche se forse il riferimento era anche al fatto che arrivò a una cessione molto ricca che aveva portato buoni soldi, però comunque il messaggio è passato in quella chiave lì. Su Marotta poi aggiungo anche un'altra cosa, però ci spostiamo prima ai contro, ovvero ai punti a sfavore di un suo ritorno. Inevitabile non partire quindi collegandoci ai punti a favore, come dicevo, al peso mediatico e anche tecnico di questa operazione, nel senso che è a tutti gli effetti un giocatore ingombrante, sia come figura che come peso con cui si verrebbe a reinserire nell'Inter eventualmente in questo momento. E quando butti un masso enorme in uno stagno lo vedi che gli effetti si fanno sentire e cambiano molte cose. Quindi andare a toccare degli equilibri così importanti a metà stagione non è una cosa da sottovalutare. E il mercato che è stato fatto la scorsa estate anche in direzione di ricreare nuovi equilibri, secondo me mi fa molto mettere in evidenza questo peso che porterebbe con il suo eventuale ritorno. Oltre a tutto quello che sappiamo dell'extracampo che è sempre da monitorare. Detto che ci si augura sempre che da parte sua e della sua famiglia, col passare degli anni e di varie vicende che hanno avuto, possano essere anche maturati in questo aspetto di gestione delle varie vicende. I costi dell'operazione sono secondo me il vero grande scoglio che mi fanno dire e questa operazione di fatto non dico impossibile perché poi il mercato ci ha abituati a delle cose assurde, soprattutto negli ultimi anni, ma molto 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 difficile. Questo sui cardi il Galatasaray ha esercitato il riscatto, lo ha acquistato per 10 milioni di euro. È un giocatore oggi titolarissimo indiscusso, che segna valanghe di gol, è un idolo dei tifosi. Fatico a pensare che oggi il Galatasaray possa acconsentire ad una cessione con delle operazioni vantaggiose per l'Inter. Bisogna andare lì e comprarlo proprio come giocatore, quindi un esborso importante in termini di cartellino, un esborso che diventa difficile soprattutto dopo aver già investito su Buchanan, quindi aggiungiamo anche questo, un esborso importante anche in termini di ingaggio, perché ho letto che molti parlano di 10 milioni di euro di ingaggio netto all'anno. In realtà da quello che mi dicono dovrebbe guadagnare circa 6 milioni con l'ultimo contratto che ha firmato, che vuol dire guadagnare in linea con l'attuale contratto di Lautaro Martinez prima del rinnovo e quindi come uno dei top della rosa in questo momento dell'Inter, che non può beneficiare del decreto crescita, quindi sicuramente anche questo rende l'operazione molto onerosa. Diciamo che se proprio lui vuole tornare all'Inter, spinge molto per tornare all'Inter, potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore probabilmente. Resta comunque un'operazione molto onerosa e quindi complicata da fare, visto che il Galatasaray è un elemento molto centrale. Come ultimo punto a sfavore ho messo poi l'adattabilità ad Inzaghi, perché è vero che c'è il precedente immobile che può incoraggiare, dall'altro lato però Icardi dopo l'addio all'Inter secondo me non ha dimostrato una vera e propria evoluzione tecnica. È rimasto un po' quel tipo di giocatore lì, non si è evoluto anche come caratteristiche e è tornato a brillare facendo dei numeri veramente impressionanti in Turchia, quindi va sempre ricontestualizzato ovviamente, ma soprattutto è tornato un riferimento centrale nel 4-2-3-1. Quindi è il terminale offensivo in un sistema di gioco che si sviluppa con il terminale offensivo come riferimento. Quindi giocare con un altro attaccante vicino è diverso, soprattutto in un sistema come quello di Simone Inzaghi, in cui gli attaccanti partecipano alla manovra, dialogano con la squadra e hanno dei compiti ben precisi. Quindi questi sicuramente sono dei punti a sfavore. In definitiva però, che lui possa voler tornare all'Inter lo trovo anche credibile sinceramente, per tanti motivi. Meno che possa prenderlo l'Inter a gennaio con il Galatasaray che è come dicevo difficile, voglio accederlo, ma questo secondo me va al di là delle questioni comportamentali e di spogliatoio, perché è vero che Marotta è quello che ha fatto di tutto per venderlo ed è ancora l'Inter ed è ancora lui di fatto a prendere decisioni, ma appunto se effettivamente qualcosa c'è e qualche discorso c'è stato, evidentemente sia Marotta che lo stesso Inzaghi ritengono che la questione comportamentale possa essere superata o quantomeno contestualizzata bene nell'Inter. Quindi questo è un aspetto che noi tifosi dall'esterno possiamo considerare, ma evidentemente dentro. Non che dentro l'Inter siano esenti errori, siano perfetti, però credo avranno fatto le loro valutazioni eventualmente per valutare un possibile ritorno di Icardi. Nei commenti, e prima di andare alle altre notizie, voglio sapere che cosa fareste voi. Se ci fosse la possibilità di prendere Icardi, lo riprendereste oppure no? Io da un punto di vista tecnico dico sinceramente sì, ci sono vari dubbi sull'incastro con l'Inter di Inzaghi, però se mi dite soprattutto al posto di Sanchez non posso che dire sì. A proposito di Sanchez, però, un paio di aggiornamenti veloci. Rimango dell'idea che al momento l'addio del Cileno sia veramente complicato per tanti motivi. Detto questo, qualcosa sul mercato degli attaccanti in realtà si sta muovendo. In ottica gennaio qualcosa che si muove sotto sotto c'è, quindi qualche operazione ovviamente molto low cost, qualche occasione da cogliere. Evidentemente Sanchez è difficile che parta, ma non impossibile. Quindi fino all'ultimo si terranno aperte queste ipotesi, almeno per qualche altro giorno ancora in questo mercato di gennaio. Di sicuro non Taremi, visto che con Buchanan e gli slot extracomunitari sono finiti e difficilmente anche qui il Porto lo cede adesso, visto che hanno una seconda parte di stagione importante da affrontare. Su Taremi però ho un aggiornamento, perché l'Inter continua, su questo abbiamo avuto sempre delle fonti importanti, quindi vi abbiamo tenuto ben informati sulla questione di Taremi nel corso delle ultime settimane, e i contatti per giugno vanno avanti, per averlo a parametro zero, visto che non rinnova il contratto con il Porto. Al momento però il giocatore, da quello che mi è stato detto, avrebbe ancora delle richieste in termini di ingaggio e di commissione per l'entourage molto importanti, per cui non si può considerare in questo momento una trattativa chiusa, nonostante, lo ripeto, al momento l'Inter qui non ha molta concorrenza, quindi si è portato avanti, ma ha di fronte a sé delle richieste molto elevate. Quindi è una pista aperta da seguire con attenzione, senza escludere possibili inserimenti, sempre da tenere d'occhio. Però l'Inter in questo momento è in vantaggio. Mentre per quanto riguarda un altro colpo a zero, Zianinsky dal Napoli, la strada pare abbastanza tracciata, si è portato avanti qui molto l'Inter per averlo a parametro zero. Colleghi napoletani continuano a non escludermi dei possibili tentativi in extremis da parte dell'Aurentis per rinnovargli il contratto, visto che dell'Aurentis è sempre imprevedibile, però pare difficile, sembra una strada ben tracciata. Ne parleremo comunque in un approfondimento dedicato nelle prossime ore, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali. Vi invito a fare un salto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se vi va di sostenere il nostro progetto indipendente, che ogni giorno vi porta nuovi contenuti, approfondimenti live e contenuti esclusivi nel club, nella nostra community dei sostenitori di Passione Inter. Se vi piace quello che facciamo, fate un salto quindi su passioninter.club, dove, come ogni giovedì, tornerà anche questo giovedì l'appuntamento con il Watch Party, insieme una serata per guardare film, serie TV, documentari e molto altro, a tema inter e non solo. Vi lascio con un altro approfondimento che abbiamo realizzato nelle scorse ore, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui. Grazie a tutti.